Buonasera Buonasera, buon pomeriggio, ancora c'è un po' di luce. Ciao a tutti, sono Miro Cortini, la trasmissione qui di Radio Science, del network di Radio Science, di che cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Io ci aggiungo sempre il che, ma è di cosa stiamo parlando? Con il punto interrogativo finale. Siamo qui, siamo all'inizio di settembre, oggi cercherò di affrontare per la prima volta da quando ho iniziato le trasmissioni, che ormai è un anno, con qualche salto per problemi tecnici o cose varie, o ferie mie e quant'altro. Cercherò di affrontare un tema di attualità, che è legato a quello che ci sta dietro a queste elezioni che sono state fatte in Svezia. È un tema caldo, caldissimo, perché i dati stanno arrivando ancora, i definitivi sono arrivati da poco. A parte questo, voglio affrontare con voi l'idea di come si approccia a un tema di attualità. L'attualità è una cosa che tocca da vicino, però il nostro metodo è sempre quello di vedere un po' dietro, a lato, e comunque andare anche a ritroso nel tempo del perché accadono certe cose, i fenomeni come accadono, perché hanno sempre dei collegamenti, dei collegamenti con il passato storico, se si arriva a certe cose oggi è perché c'è un'evoluzione del fenomeno che si analizza e che porta, e quindi non cadono dall'alto e il nostro taglio è sicuramente quello di cercare di comprendere. E come dice il nostro regista Schaes, anche il tema caldo della nostra radio è quello di risvegliare le coscienze, quindi di dare elementi di informazione a tutti quanti per potersi fare un'idea il più possibile plurale, perché questo ci teniamo molto, quindi non c'è mai un partito preso, per quanto mi riguarda sicuramente, ma anche gli altri autori, si cerca di vedere il fenomeno di cui si sta parlando da vari punti di vista, da vari approcci. Si cerca di essere il più obiettivi possibile, però certamente c'è un fondo di riferimento e un metodo per analizzare i problemi. Io ne ho già parlato, per me è importante l'analisi anche proprio semantica delle parole, semiologica delle parole, da dove vengono, come si formano nel tempo, come cambiano di significato negli usi e i costumi dell'umanità, diciamo. E poi anche questa doppia visione del locale e del globale, perché del globale ormai non possiamo fare a meno, perché lo stesso strumento per cui parliamo oggi è legato alla globalizzazione. Oggi arriviamo dovunque con questi sistemi informatici, elettronici, social e quant'altro. Ecco, per fare questo mi rallaccio alla trasmissione precedente che abbiamo fatto, che parlava di big data e di social, ma anche lì in senso molto lato, non propriamente tecnico, ma anzi un'analisi proprio della tecnica, della tecnologia che abbiamo cercato di fare. E continueremo, continueremo parlando di robotica, di domotica, quindi andando un po' più nello specifico, con delle micro interviste, con persone che queste cose le affrontano anche dal punto di vista professionale, lavorativo. Adesso è un periodo di ferie, non ho trovato le persone. Comunque questa è una promessa che facciamo, non abbandoniamo, anzi lo implementeremo con altre argomentazioni, perché comunque la tecnologia è qualcosa che ci sovrasta, nella quale siamo immersi e che oggi non si può fare a meno di indagare. Bisogna indagarlo anche con un certo metodo, con una certa analisi critica, che come avete visto l'altra volta, vede gli aspetti sia positivi che negativi di tutte le trasformazioni tecnologiche che viviamo e usiamo tutti i giorni. Bene, detto questo, andiamo un po' più... Ah no, niente, volevo ricordarvi, anzi, devo fare un ringraziamento a tutto lo staff della radio, ma non solo, a tutti quelli che hanno seguito uno speciale che abbiamo fatto, che ho seguito io, una puntata speciale su una figura di un autore di romanzi, fra la persona di una medicina, un amico, che ha avuto un buon risultato. Abbiamo visto i dati di Facebook, abbiamo avuto più di 2000 contatti, e questo ci fa molto piacere, perché vuol dire che viene un po' riconosciuto il nostro sforzo e il nostro lavoro. Quindi chiaramente tutto quello che facciamo qui è tutto volontà personale, Radio Self rimane in maniera orgogliosa una compagine, diciamo, di amici, di collaboratori che lavorano senza fini di lucro. La radio stessa ha questo taglio, e quindi questo lo rivendichiamo. E comunque quando riusciamo a avere anche un po' di risultati, di numeri, questo ci aiuta a lavorare meglio e a diffondere un po' il nostro progetto, il progetto di Radio Self, che cerca di crescere. Parlando di attualità, mi piace ricordare due fatti, ma abbastanza recenti, non recentissimi, dei quali si è parlato, secondo me, non abbastanza, che mi sono appuntato nel tempo e volevo appunto accennare. Uno è che un risultato positivo dei nostri ricercatori, dei nostri scienziati, che con questa sonda, che sono andati già, questa è la notizia di un paio di mesi fa, hanno potuto dimostrare che su Marte, quindi un ingegnere e un geologa, geofisici e un fisico ingegneristico, hanno potuto dimostrare che sotto un chilometro e mezzo di rocce e ghiacci, e non si sa bene cosa, perché chiaramente sono tutte proiezioni che vengono fatte da questa sonda che è lontana, però ha un'ottica particolare che riesce appunto a decifrare proprio anche i materiali che ci sono anche nel sottosuolo e hanno potuto dimostrare che a un chilometro e mezzo, quindi dalla superficie, c'è acqua. Questo non significa esattamente che c'è vita, ma forse che c'è stata, potrebbe essere, comunque è una scoperta rivoluzionaria, perché noi per primi italiani lo abbiamo fatto, quindi è viva la nostra tecnologia, e la nostra opera di ricercatori, che se rimangono in Italia appunto fanno cose egregie. Oltre a questo invece in Russia, anche questo non se ne è parlato tanto, il problema di criobiologia, cioè della tecnologia applicata anche alle persone che vengono ibernate, sperando di poter essere scongelate e di ritornare a vivere, ma questo per ora non se ne sa nulla. Però in realtà hanno trovato anche qui nei ghiacci, nel permafrost della Siberia, dei vermi, dei quali due, di questi 30-40 che hanno portato in luce, insomma hanno portato in uno studio, in un laboratorio, due di questi hanno iniziato a muoversi, a mangiare e tornati a vivere, insomma dopo essere stati congelati per 42 mila anni. È una scoperta veramente che ha dell'incredibile, scusate che ha dell'incredibile, della quale non si è parlato tanto, ma dietro c'è anche tutta un'industria, dietro a questa cosa qui, cioè quella di appunto questi paperoni, questi super miliardari americani o comunque occidentali o comunque super miliardari che appunto al momento della loro morte vogliono farsi ibernare sperando di poter rivivere. Secondo me questa cosa è abbastanza agghiacciante perché da sempre la vita è pensata con un inizio e una fine, no? Già ci si mette con tutta una serie di tecnologie che vengono attivate per allungare la vita, per renderci più giovani fino a delle cose abbastanza sconvolgenti di persone che a 80 anni hanno un aspetto apparentemente di giovani ventenni e trentenni, è incredibile. Va beh, di questo non voglio affrontare, non voglio approfondire. Comunque ecco, questa cosa qui è veramente, apre delle possibilità anche vuol dire appunto di ricerca scientifica veramente amplissime. Ecco queste due cose. Per quanto riguarda invece, questo non sono riuscito a fermarlo, dovete scusare, un attimino che trovo una fotografia, potete aspettarmi un secondino, perché è importante, è collegata con la televisione che ho fatto la volta precedente, cioè 15 giorni fa, sulla tecnologia, dove ho affrontato anche gli aspetti negativi che la tecnologia ci pone di fronte. scusate un secondo, non mi piace fare queste cose, ma purtroppo nel cellulare non ho potuto scaricare, non l'ho fatto in tempo, non mi funzionava bene il collegamento con il PC, se no l'avrei avuto qui, questo articolo, che è molto, è del resto del Carlino, di pochi giorni fa, e che appunto tratta questi temi qui. Eccolo qua. Ecco qua. Ecco, volevo, volevo leggervi questa cosa. Allora, questo autore qui è uno scienziato che viene, viene, oddio, scusate, mi si è incasinato, eh vabbè, insomma, questo è il bello della diretta, mi si è incasinata l'immagine, non capisco perché, eh, porca Nigeria, eh vabbè, ti giri, ti giri, questi, le macchinette infernali, le chiamo, i cellulari, che invece poi ci danno anche tante, tante opportunità positive. Allora, eccoci qua. Mamma mia. Avevo detto che faccio, avrei fatto una lezione, o una, scusate, una trasmissione, eh, un po' lenta, infatti stiamo, stiamo andando con la lentezza, che è un pregio, che è un pregio che dobbiamo riconquistare, secondo me. Ecco allora, vi leggo, questo è un giornalista molto specializzato, appunto, su, su, i big tech, la grande tecnologia, le grandi tecnologie, quindi, sui colossi, eh, della tecnologia, parliamo della Silicon Valley, parliamo di Google, e tutti gli altri fratelli collegati. I giganti della Silicon Valley sono diventati ormai padroni delle nostre vite, quello che cercavo di dire anch'io l'altra volta, senza che noi ce ne accorgiamo. Attraverso algoritmi, appunto, per noi misteriosi, seguono per conto nostro busti, amicizie, orientamenti, anche politici. E il giornalista, è il giornalista americano, Franklin Fowler, uno dei massimi esperti mondiali dei big tech, che lancia l'allarme sul potere incontrastato e ormai controllato, assunto dai giganti del web. Fowler è in Italia, per far conoscere un best seller mondiale, i nuovi poteri forti, appena uscito da Longanese, nel quale traccia un quadro inquietante della minaccia che i vari Amazon, Google, Facebook esercitano, se fuori controllo per la stessa vita democratica. Non è possibile che tre o quattro aziende controllano a loro piacimento la piazza pubblica dei cittadini, lo spazio del dialogo, se su qualsiasi argomento dalla politica agli aspetti commerciali ci organizzano la vita, ovviamente seguendo il proprio interesse. Questo era un po' quello che volevo segnalarvi. L'articolo poi continua e approfondisce questo aspetto qui. Ecco, termine, questa è un po' la lunga introduzione che ho fatto e passo all'argomento di oggi che è appunto i risultati delle elezioni in Svezia e questa inquietante ombra che c'è di questo partito all'interno della Svezia che si chiamano i democratici svedesi. ormai la parola democratico viene veramente distrattata. Pensate che questo partito quando è nato era di chiaramente ispirazione oltre che xenofoba quindi razzista dichiarato ma anche proprio neonazista con persone che ancora ad oggi non viene detto dalla maggior parte dei giornali però è così nelle loro raduni di partito si presentano esattamente con la divisa o dell'SS o dell'esercito italiano questo è un po' inquietante no? Poi c'è stato questo Jimmy Hickson che è questo giovane intraprendente che ha un po' fatto un machillage ha cercato di togliere gli elementi più estremisti e questa nuova immagine che ha cercato di dare è più populista anche velatamente xenofobo però con argomentazioni più da buonsenso di destra per cercare di convincere sempre maggiori persone alla loro politica ecco questo partito ha avuto il 17,7% non non ha sfondato la soglia del 20% come si pensava però comunque sarà abbastanza determinante nella formazione del nuovo governo visto che gli altri due blocchi quello socialdemocratico e quello moderato sono veramente molto testa testa insomma pare che sia una prevalenza del blocco socialdemocratico però comunque non parliamo di maggioranza assoluta e quindi ci dovranno essere dei compromessi questo può la situazione della Svezia ma se ne è parlato molto in questi giorni perché perché queste elezioni qui sono le elezioni importanti di uno Stato membro dell'Unione Europea che appunto precede le elezioni prossime europee e siccome questo blocco che si sta venendo a delineare che parte da Marine Le Pen in Francia Orban in Ungheria Jimmy Eccison in Svezia poi non ricordo adesso il politico della Polonia che appunto incarna questo anzi sono al governo questi in Polonia ecco questo blocco qui assieme ad alcune frange anche vabbè adesso la Brexit non c'è più con la Brexit non c'è più l'Inghilterra però ci sarebbero anche anche in Inghilterra insomma questo blocco qui non si sa bene che cosa potrà che peso potrà avere nelle prossime elezioni europee potrebbe veramente scardinare molte certezze che fino ad oggi ci sono state insomma questa alternanza tra partiti diciamo moderato liberale comunque di centrodestra e partiti più punto di rispettazione più socialdemocratica filosocialista non si sa bene che cosa da quale peso avranno ecco comunque il fatto che non abbiano sfondato come si pensava questa soglia del 20% vabbè è una vittoria appunto dei socialdemocratici in qualche modo anche se hanno perso poi il 5% quindi è una vittoria di Pirro come si dice cioè è una vittoria un po' fasulla insomma ecco però ecco questo questo è quanto allora parliamo della Svezia la Svezia è una nazione membro appunto dell'Unione Europea e che sicuramente non è una potenza mondiale insomma da un punto di vista economico o militare o comunque a livello internazionale ha un peso diciamo moderato ristretto insomma ma sicuramente è una nazione che è campione da un punto di vista umanitario pensate che solo nel 2015 sono entrati in Svezia 160 mila migranti clandestini cioè no scusate persone che cercavano appunto una casa comune molti molti dalla Siria sono venuti ma diciamo andando indietro negli anni da sempre da sempre da quando è al potere il partito social democratico in Svezia c'è stata questa apertura insomma da sempre una società molto aperta e molto molto predisposta per appunto l'immigrazione di persone che scappavano da guerre e non solo insomma quindi è sempre stata molto molto ospitale come nazione perché fa parte un po' della loro cultura e hanno cercato però evidentemente non l'hanno fatto abbastanza bene anche loro di creare un'integrazione appunto con gli altri cittadini e questo fatto di dare questo welfare prestigioso che è unico è una punta di diamante in Europa e nel mondo insomma possiamo dire che dove veramente il cittadino svedese con questo questo welfare appunto viene 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 curato insomma viene viene accompagnato veramente come si diceva dalla dalla nascita alla morte insomma e questo appunto questo questo welfare che è costoso che chiaramente anche molto passato alle persone che arrivavano nel paese ha creato anche dei malumori dei malumori tra i cittadini svedesi ma il problema è che non c'è stata un'integrazione inutile appunto far venire questo è uguale anche per noi in Italia far venire persone accogliere persone nel nostro paese senza poi poterle in qualche modo gestire accompagnare indirizzare e ovviamente anche dare delle regole e dei paletti di riferimento perché questo fa parte è normale insomma come lo chiedono lo si chiede per gli italiani giustamente anche per gli italiani rispetto delle regole della nostra costituzione della conoscenza della nostra lingua questo ci sta tutto ma è la gestione di questo che è un po' sfuggita di mano e poi appunto spuntano fuori i partiti neonazisti e questo è abbastanza grave vedo che il tempo scorre via velocissimamente volevo fare una piccola interruzione musicale però vado avanti invece perché voglio sfruttare gli ultimi gli ultimi dieci minuti per parlarvi di di una persona che ha segnato la storia della seconda metà del novecento in Svezia e sto parlando di Olof Palm molti giovani magari non lo conoscono non si ricordano questo questo signore questo politico è quello che ha veramente dato il marchio della socialdemografia più aperta e più anche coraggiosa appunto nella storia nella storia svedese e che ha avuto dei risultati anche molto molto importanti da un punto di vista proprio di numeri insomma di successo politico elettorale Olof Palm non è più con noi dall'86 è stato assassinato da una mano che non è stata mai individuata e quindi il caso è ancora aperto era una sera del 28 febbraio dell'86 nella capitale Stoccolma con la moglie tornava da un cinema è stato assassinato alle spalle in maniera molto anche migliacca lui per quella sera aveva rinunciato alle guardie insomma alla custodia di militari perché non ne poteva anche più ecco perché è stato ucciso ci sono tantissime ipotesi sicuramente dava fastidio a molta gente a molta gente nel mondo la prima frizione ad esempio con gli Stati Uniti è stata quando il suo partito e lui era un giovane funzionario di partito era già un dirigente accettò di accogliere appunto questa politica dell'accoglienza tutti quelli che erano renitenti alla leva cioè che non accettavano di andare a fare militare nel periodo della guerra del Vietnam e questo non è che è stato molto accolto bene dal in quel tempo c'era Nixon al potere e da lì sono nati un po' di frizioni di problemi poi lui aveva un dialogo abbastanza aperto e buono con il blocco comunista aveva contato i rapporti con la Cuba di Fidel Castro con tantissimo con il Cile di Allende poi che sono interrotti quando c'è stato il golpe in Cile di Augusto Pinochet era vicepresidente dell'internazionale socialista è stato ma è stato anche nominato mediatore dell'ONU nella guerra Iran-Iraq che anche questa forse è dimenticata però è stata una guerra micidiale mortale per veramente forse parliamo di più di un milione di persone perché è durata tantissimo è durata dagli 8 ai 10 anni e dove in quel momento per esempio l'Iraq di Saddam era spalleggiato e finanziato e anche fornito di armi dagli Stati Uniti perché l'Iran invece è sempre stato l'Iran di Khomeini della rivoluzione musulmana era sempre stato contrario agli Stati Uniti ecco lui Olaf Palme è stato anche nominato per diventare Presidente dell'ONU e quindi in quel periodo lì avendo quella carica c'è chi dice che appunto avrebbe dato molto fastidio agli Stati Uniti d'America ma questa è una delle piste perché un'altra pista di Reggio porta in Russia perché comunque lui con l'economia pianificata di stampo democratico però questo socialismo democratico attirava le attenzioni anche dall'interno della stessa Russia di chi voleva appunto rovesciare l'economia pianificata totalitaria che c'era in unione sovietica a quel tempo quindi si era fatto nemici un po' in tutto tanto è vero che lui era assieme a Tito e all'India era molto vicino ai paesi non allineati e quindi ecco un'unica traccia che è rimasta perché è una storia da thriller da un giallo la sua la morte e tutto quello che tutti gli processi che sono stati fatti le indagini è veramente una cosa incredibile e tuttora il caso appunto è aperto perché non è mai stata trovata nella pistola e neanche appunto individuato di sicuro la mano che l'ha ucciso e sicuramente ancora meno i mandanti appunto unico riferimento è questo che ci fu un telegramma mandato da Licio Gelli chi non lo ricorda Licio Gelli che non è morto da tanto era vabbè era non si sa bene che cos'era però sicuramente è stato indagato nell'operazione Gladio e quindi ci sono stati anche qualcuno che ha pensato che fosse collegato anche nell'omicidio Moro in Italia e non solo insomma quindi collegato con la CIA sicuramente anche con le mafie ecco un personaggio che si è portato nella tomba molti misteri comunque e comunque questo telegramma è stato rivenuto questo telegramma a firma di Licio Gelli mandato a questo Philip Guarino che era un collaboratore molto stretto di George Bush George Padre parliamo di George non del Bush prima di Obama che diceva questo diceva esattamente che informa il nostro amico cioè questo Licio Gelli ha questo Philip come il nostro amico potrebbe essere appunto George Bush informa il nostro amico che la palma svedese verrà abbattuta questo gioco di parole lui era anche uno che scriveva poesie la palma si intende palme palma palme olof palme verrà abbattuta ecco purtroppo lui ci ha lasciato è stato molto rimpianto perché sicuramente una persona un pacifista un uomo molto coraggioso che ha cercato di fare veramente il massimo per il suo paese appunto applicando i principi del welfare ha cercato di spingere l'economia è stato contro l'apartheid per esempio in Sudafrica anche qui si è fatto molti nemici e sono veramente una persona di grande spessore un socialista democratico che credeva nelle armi della democrazia parlamentare che per quanto riguarda il capitalismo lui aveva questa frase che è rimasta un po' ricordo di lui il capitalismo è come una pecora che va attosata periodicamente in maniera costante ma non va abbattuta non va a uccidere quindi lui salvava la parte positiva del capitalismo perché in quegli anni lì era ancora era ancora vivo l'idea del progresso parliamo degli anni 70 e 80 che sono gli anni in cui lui nella vita politica svedese ha lasciato il segno ecco questa persona qui è è rimasto è rimasto un dubbio un dubbio planetario del perché se n'è andato ma forse c'erano interessi appunto a che lui non facesse più politica perché si sta spingendo un po' troppo con questa apertura verso verso era contro le guerre era anche aveva firmato trattati per contro la proliferazione delle armi nucleari quindi veramente si era inimicato molte persone nel mondo io ho un ricordo ero bambino però ho un ricordo molto molto vivo di questa persona così mite e però allo stesso tempo anche molto energica molto determinata e e vabbè forse forse manca appunto mancano politici di questo stampo con questa etica mai è stato accusato di corruzione sì il suo partito sì hanno cercato in qualche modo insomma di incastrarlo però lui personalmente mai e quindi ecco forse mancano un po' di politici così e per intanto insomma noi andiamo avanti con i politici che abbiamo speriamo che facciano bene certo però a me rimane il fatto che appunto questo Jimmy Hickson 17,7% ricordo è stato ricordato e gli sono mandati gli auguri da parte di nostro vice presidente del concilio dei ministri il signor Matteo Salvini ecco io capisco bisogna preparare le elezioni europee quindi non si guarda in faccia a nessuno però insomma fare gli auguri a uno che nel suo partito si è cercato di fare pulizia però ancora al suo interno ha delle persone che anzi hanno fatto anche ieri hanno fatto irruzione in alcuni in alcuni alcuni luoghi dove venivano le elezioni e hanno minacciato pubblicamente dei giornalisti insomma con queste divise neonaziste che non dovrebbero esserci più insomma non dovrebbe essere proprio la memoria sepolta dalla quale prendere distanze tutti ecco non viene fatto neanche in Italia probabilmente è solo un calcolo certo si capisce però c'è un limite a tutto secondo me e poi sarebbe meglio che ognuno pensasse alla politica nel proprio paese invece che insomma pensare sempre avere davanti solo l'agenda elettorale e non quella dei meccanismi di funzionamento di uno Stato che penso che sia la prerogativa di un ministro dell'interno non è polemica però è una precisazione che ci tenevo a fare con questo signori miei io vi ringrazio vi saluto di che cosa stiamo parlando termina questo momento la prossima volta tra 15 giorni prometto di impegnarmi di poter continuare sperando che vi sia di vostro gradimento mandatemi un segnale in qualche modo se lo gradite di continuare un discorso sulla tecnologia appunto affrontando i temi della robotica della domotica o comunque della tecnologia applicata dell'impatto sociale dell'informatica chiamiamola così insomma temi che ci toccano da vicino con i quali abbiamo a che fare quotidianamente tutti i giorni anzi ogni minuto perché appena adesso chiudo Skype che vuol dire essere già dentro la tecnologia accenderò il cellulare per vedere chi mi ha chiamato bene grazie ancora un saluto a Sayus al nostro regista che sempre ci accompagna e fra 15 giorni un saluto e buon settembre a tutti ovviamente che sono ancora belle giornate viviamole fino in fondo come sempre ciao e buon settembre a tutti a